8 semplici modi per bruciare 100 calorie in pochi minuti. Bruciare calorie non è sempre un'impresa facile. Tuttavia, grazie a questi 8 consigli, le cose cambieranno. Dovete solo prendere nota di cosa fare e noterete presto la differenza. Un buon modo per rimettersi in forma senza spendere soldi. 1. Ballate per bruciare calorie. Ballare è un buon modo per bruciare calorie. Basta scegliere 4 o 5 canzoni e ballarle con tutta l'energia possibile. Saranno 15 minuti di movimenti energici che vi aiuteranno a bruciare 100 calorie in modo semplice e divertente. 2. Andate a fare la spesa. Se dedicate alla spesa al supermercato 40 minuti al giorno, saranno sufficienti a bruciare 100 calorie. Vi basterà andare a fare la spesa e le altre commissioni quotidiane per rendervi conto di quanto passi veloce il tempo e quanto sua semplice bruciare calorie. 3. Avete un giardino? Occupatevene. Un'attività rilassante e produttiva come il giardinaggio vi farà bruciare 100 calorie in pochi minuti. Occupatevi del vostro giardino per 20 minuti per abbellirlo e per consumare calorie. Pratico e utile in parti uguali. 4. Aiutate chi sta facendo un trasloco. Se avete amici che stanno traslocando, aiutarli non è solo una prova di amicizia, ma anche un ottimo modo per bruciare calorie. In soli 20 minuti riuscirete a bruciare 100 calorie. 5. Fate sport ad intervalli. Fare sport è sempre una grande idea e se lo fate ad intervalli regolari raggiungerete il vostro scopo senza stancarvi o almeno senza stancarvi troppo. Si tratta di allenamenti che dovreste fare in poco tempo e che consentono di bruciare molte calorie. Un esempio è il seguente, jumping jacks, aprire e chiudere le gambe saltando, per 20 secondi. Riposo 10 secondi. Sollevamento delle ginocchia per 20 secondi. Riposo 10 secondi. Saltare la corda per 20 secondi. Riposo 10 secondi. Per riuscire a bruciare 100 calorie, dovrete ripetere almeno 9 volte questa sessione di attività fisica. 6. Fate le pulizie di casa Fare le pulizie di casa, oltre ad essere un dovere, è anche un utile esercizio per bruciare calorie. Passare l'aspirapolvere, lavare il pavimento e altre superfici per 30 minuti vi aiuterà a bruciare 100 calorie. 7. Cucinate La cucina non è vostra nemica se l'obiettivo è quello di bruciare calorie. Cucinare non vi aiuterà solo a mangiare più sano, ma se lo fate per 55 minuti, riuscite a bruciare 100 calorie. A partire da questo momento, avete un motivo in più per non ordinare cibo tachia vai. 8. Fate le scale Salite e scendete le scale, non usate l'ascensore. In questo modo, migliorerete le vostre condizioni fisiche e riuscirete anche a bruciare calorie. Per bruciare 100 calorie, dovrete salire e scendere le scale per 10 minuti. Altre opzioni per prendersi cura di sé, anche se il consumo di questo succo naturale non vi farà perdere 100 calorie nell'immediato. Di certo è un potente bruciagrassi che vi aiuterà a migliorare notevolmente il vostro aspetto fisico. Prendete nota di come prepararlo e non esitate ad includerlo nella dieta. Ingredienti 1 cetriolo 3 carote 1 barra 2 tazza di ananas 75 g 1 barra 2 peperone giallo Il succo di 1 barra 2 limone Preparazione Lavate e disinfettate bene tutti gli ingredienti. Pelate il cetriolo, le carote e l'ananas ed eliminate i semi e la parte bianca del peperone. Mettete gli ingredienti nel frullatore o estrattore ed azionatelo. Infine, aggiungete il succo di limone. Quando berlo? L'ideale è bere questo succo la mattina. Quando vi alzate, bevete prima un bicchiere di acqua tiepida. Dopo 10 minuti, il corpo sarà pronto per assimilare i nutrienti del succo. Alcuni aspetti da tenere in considerazione. Se avete problemi di ulcera, evitate di aggiungere l'ananas. Bevete questo succo due o tre volte alla settimana e alternatelo con un altro succo diuretico. Noterete presto la differenza. Il corpo eliminerà i grassi e le tossine accumulate. Si tratta di un succo che per gli ingredienti che contiene è in grado di regolare il pH e di alcalinizzare il corpo. Ed è proprio questo uno dei segreti per perdere peso. Se il corpo è più alcalino che acido, tenderà ad eliminare velocemente i grassi. Grazie agli ingredienti antiossidanti che contiene, inoltre, questa bevanda è in grado di rigenerare le cellule danneggiate. In questo modo, favorirà in qualsiasi momento un corretto funzionamento metabolico del corpo.